Professore, come mai stiamo ancora attendendo i dati di incidenza del 2007, del registro tumori? I dati di incidenza, il registro tumori di Lecce è partito prima, però nel 2007, mentre nelle altre province si è arrivati al 2009, Lecce sta completando ora, 2008-2009, è uno scarto che è legato a una serie di problemi, alcuni oggettivi, è difficile gestire il registro tumori in una realtà provinciale in cui la mobilità passiva oncologica si ha due cifre come a Lecce, molti sono ricoverati fuori regione e quindi… Ma penso anche a Taranto nella Bacca, questa dinamica. Sì, anche loro, però hanno più risorse. Ecco, la seconda differenza, il secondo motivo che rende complicato è la difficoltà nella gestione del registro. Il registro di Lecce è sostanzialmente opera di pochissimi operatori, cioè che sono appunto la dottoressa Melcarni, il dottor Quarta e basta. Comunque i colleghi sono impegnati in tempi molto rapidi. Arriveremo anche al 2009, si allineerà rispetto non solo ai registri di Taranto e BAT, ma anche alla media dei registri nazionali. Ora, perché c'è determinato quell'eccesso? Perché c'è questo cluster attuale? E perché eventualmente si è determinato negli anni? Questo nessuno è in grado di dirlo. Come è noto, queste sono le cose in cui poi ciascuno, come l'allenatore della Scuola di Taranto nazionale, cioè tu siamo tutti, ciascuno dice la sua. Probabilmente, detto a di fare questo tipo di valutazione, si tratta di un effetto coorte, cioè che quelli che hanno attraversato situazioni di esposizione nociva negli anni 50 e 60 portano con sé il rischio e questo si traduce nel fatto che siano i soggetti anziani ad avere l'eccesso di mortalità. ora, sono sentiato. Però scusi, le dicevano, il fumo di sigaretta non è differente… No, no, il fumo di sigaretta non lo sappiamo. No, 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 no. In queste cose le frasi apodittiche non si possono usare. Il problema è che la gente vuole per forza la pistola fumante di qualcosa. Ora, perché ci sia questo fenomeno, nessuno è in grado di dirlo. E bisogna prendere in considerazione i fattori di rischio, che sono fumo di sigaretta, attivo, passivo, il radon, rientro di soggetti… Come è ovviamente… Malattie professionali. Malattie professionali, rientro di lavoratori dall'estero. Tutta una serie di fattori che possono essere valutati soltanto con uno studio epidemiologico analitico, cioè andando persone per persone. Ma l'ambiente locale non c'entra nulla? L'ambiente locale attualmente non c'entra nel modo più assoluto. Ha appena detto le frasi apodittiche non valgono. No, nel senso che non è ipotizzabile che una situazione di inquinamento ora produca tumori ora. So se è chiaro. Se ci fosse un inquinamento ora produrrebbe tumori solidi come quello tra 15 anni. Direttore, negli atti della commissione bicamerale antimafia dei rifiuti, che fece un sopralluogo a Brindisi, lega ambiente denunciò anche il fatto che in questi stabilimenti veniva bruciato materiale che proveniva da Cerano. Neanche questo spiega evidentemente un'incidenza superiore che c'è stata in quell'arco di tempo. E voi come ARPA ricordate la denuncia di questo problema, insomma di questo fenomeno? Il fenomeno di utilizzare... Quegli impianti per bruciare del materiale che proveniva da Cerano. Dato che nel clinker del cemento è necessario inserire una percentuale di cenere, o può essere inserita, per meglio dire una percentuale di cenere, le cenere di Cerano possono essere state utilizzate nel cemento della Conce, in questo caso. Questo francamente in questo momento non ricordo, se la collagen abbia utilizzato ceneri dell'impianto dell'Enel, è possibile, non me lo ricordo. Che questo possa aver determinato quel problema è abbastanza difficile da dimostrare, prendendo presente che quel problema è iniziato 40 anni fa e quindi rappresenta l'esposizione 50 anni fa, quando c'erano o non c'era. Ma assolutamente c'era la collagen. Ma c'era probabilmente la collagen. E ovviamente queste sorgenti vanno valutate per il loro contributo individuale, che cambia nel tempo e quindi non è facile riuscire a definirlo. Quando voi monitorate puntualmente la falda superficiale? La falda superficiale... Quella con cui vengono irrorati i campi, no? No, noi seguiamo... No, noi abbiamo dei compiti precisi nel monitoraggio delle acque e ci atteniamo ai compiti precisi che noi abbiamo. Non abbiamo nessuna arpa in Italia che controlla tutti i pozzi esistenti nel territorio. Quindi è impensabile questo vengono. Quindi avviene all'interno di piani di monitoraggio che evidentemente, a meno che non si determinano emergenze, sono mirati. La nostra agenzia è notoriamente la più sottodimensionata d'Italia. Non potrebbe assolutamente svolgere un'attività così intensiva come il monitoraggio delle acque superficiali. Scusi direttore, però oggi con le notizie che vengono fuori ogni giorno anche sull'interramento dei rifiuti e quant'altro, viene spontaneo pensare che ci possa essere qualcosa di non ancora scoperto che quindi può portare il terreno ad essere complice di questa incidenza tumorale. E quindi le chiedo, quello che si sta scoprendo in questi giorni sui rifiuti che man mano vengono fuori, la preoccupa, la insospettisce? La situazione di pericolo potenziale c'è e bisogna poi verificare nello specifico le situazioni che si determinano e sulla base poi del coinvolgimento che le istituzioni ci chiedono, faremo gli accertamenti analitici per valutare la presenza di criticità ambientali in corso, che allo stato attuale non ci risultano. In questo momento né l'autorità giudiziaria né le istituzioni che hanno funzione, come le ASD, ci hanno chiesto di effettuare specifiche attività di analitica per quanto riguarda determinati territori. In questo momento questa situazione di criticità ambientale francamente non la vedo, perché non c'è nessuna evidenza di criticità ambientale. Anche se tra i rifiuti che vengono fuori, i depuratori che non funzionano, le discariche che preoccupano, diciamo che nel Salento c'è una buona motivazione d'ansia? Ci sono situazioni complicate che sono presenti per la verità anche in altre aree della regione e è ovvio che i depuratori rappresentano comunque una potenziale criticità. Questi sono specificamente valutati sito per sito. Per quanto riguarda il suolo, la norma è precisa, occorre definire se ci sono i superamenti delle concentrazioni critiche. Quindi, sinché non ci sono… e questo accertamento non è dell'ARPA, è del proprietario del suolo che eventualmente fosse responsabile di un qualche abuso dell'uso del suo suolo. Se ci sono rifiuti pericolosi nel territorio, nella proprietà di un privato, tocca poi il privato caratterizzare il suolo. L'ARPA ha solo una funzione di validazione. Cioè deve autovalutarsi, diciamo così. No, l'ARPA deve fare gli autocontrolli e l'ARPA va… perché altrimenti il principio di chi inquina paga verrebbe meno. Questo è preciso, la norma italiana che recepisce le norme europee è sufficientemente garantista. Quindi il fatto di che ci siano dei rifiuti che vengono rinvenuti non sta a significare che esista una criticità nei suoli necessariamente. Avete in programma anche qualche attività più sperimentale? Mi riferisco, che ne so, alla… Si è sentito parlare nel tempo di analisi delle carni, degli allevamenti, piuttosto che della saliva dei bambini, piuttosto che… Ma ci sono tutte attività che non rientrano le competenze di un'ARPA. Capisco che l'opinione pubblica è totalmente disorientata. Da un certo punto di vista mi potrebbe pure far piacere, in senso che se tutti pensano che l'ARPA deve intervenire in tutte le cose e quindi in qualche modo è come una sorta di affidamento di responsabilità. L'ARPA non interviene per quanto riguarda il monitoraggio degli alimenti di origine animale, che non è proprio di competenza delle ARPA. L'ARPA interviene… Mi sono spesso male, mi riferivo allo studio epidemiologico. Le carni non interviene sulle carni. Quindi le attività sia di campionamento che di analisi delle carni, come pure delle uova o delle cozze, del pesce, non appartengono alle ARPA. Come pure non appartiene alle ARPA il biomonitoraggio, come lei ha detto, le analisi sulla saliva. Io sul latte materno non sono competenza delle ARPA, sono competenza del servizio sanitario, perché l'ARPA si interessa dal rilascio, faccio l'esempio del cammino, quindi le polvere, i fumi dei cammini. Poi è in grado sia di misurare che di stimare le concentrazioni in atmosfera prodotte da tutte le sorgenti, nell'esempio dal cammino. Lo può stimare anche a livello del recettore, cioè del cittadino che vive nel territorio, ma non ha il compito di stimare poi i metaboliti che le sostanze assunte si raccolgono attraverso i liquidi biologici. Per esempio, che è un'attività propria del servizio sanitario, che non è presidiata perché non lo fa nessuno. Questo è un problema di sistema che noi stiamo in qualche modo risolvendo per l'area di Taranto e Brindisi attraverso studi del centro ambiente salute, in cui ricomponiamo, per esempio, il problema dei metalli nell'esposizione prodotti dalle emissioni industriali, attraverso studi che siano in grado di mettere insieme sia le misure in atmosfera prodotte dagli rilasci industriali, sia con gli indicatori biologici presenti per il singolo cittadino. Cioè a Brindisi e a Taranto misurerete sangue, urine, saliva, latte? Per specifici problemi, per specifici problemi saranno misurati insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Riusciremo a completare la filiera ambiente salute occupandoci anche del biomonitoraggio che non è di competenza ARPA ma è di competenza dell'ASL. Visto che l'ARPA sta conducendo questo monitoraggio ambientale e biomonitoraggio nelle aree di Brindisi e di Taranto non potrebbe essere utile estenderlo alla provincia di Lecce o almeno al versante settentrionale della provincia di Lecce che è più vicino ai poli industriali in modo da capire se c'è una ricaduta anche lì. Ma noi quando facciamo le valutazioni di danno sanitario... Cioè uno chiede perché a San Pietro sì e a Squinzano no, che sono confinanti. Sì, ma noi non è che facciamo una valutazione di tipo territoriale, sono dei progetti specifici che si riferiscono a specifiche situazioni che ovviamente potranno contemplare anche il biomonitoraggio. Ora la parte... noi facciamo nella valutazione per esempio che stiamo completando del danno sanitario che noi abbiamo voluto, combattendo contro le aziende e contro i ministeri, noi insieme alla Regione. Del danno sanitario dell'Enel abbiamo considerato ovviamente l'impatto ambientale e quindi anche il rischio sanitario nelle aree che sono potenzialmente associate a queste emissioni. Quindi abbiamo considerato le aree della provincia di Lecce più vicine, compresa la città di Lecce per quanto riguarda l'impatto di quella sorgente emissiva. Esistono delle situazioni che ci inducono a fare determinati approfondimenti. Per esempio, nella situazione del rischio legato all'eccesso di tumori polmonari nella provincia di Lecce non avrebbe alcun senso effettuare attività di biomonitoraggio perché si tratta di situazioni, certamente frutto di esposizioni pregresse, quindi biomonitoraggio di cosa? Per che cosa? Cioè uno dovrebbe effettuare un biomonitoraggio insensato laddove noi tendiamo viceversa ad approfondire e a indicare delle attività specifiche sulla base di alcune situazioni di criticità che già evidenziamo. solo se a senso si fanno determinate cose. Non si fanno per una sorta di placebo sociale o perché incalzati dall'opinione pubblica. Questa è la differenza tra un organo tecnico e gli organi politici. I sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti della regione hanno il dovere, diciamo, di in qualche modo tenere presente il consenso delle loro popolazioni e anche facilitare delle operazioni di placebo sociale. L'organo tecnico? No. L'organo tecnico risponde soltanto dell'evidenza tecnico-scientifico. Innanzitutto dal governo sono arrivati questi 25 milioni di euro per lo screening nell'area di Taranto e di Statte. Quindi se lei pensa che questa misura sia... Guardi, lei ha un nervo scoperto. Questa è l'agenzia più sottodimensionata d'Italia. In tutte queste leggi, cosiddette salva-ilva, non è venuto un euro per l'ARPA. E l'ARPA, come vi ho spiegato, è quella che fa la vera prevenzione primaria attraverso l'identificazione dei inquinanti a partire dall'emissione fino ai mezzi attraverso i quali avviene l'assorbimento dell'uomo. Quindi in atmosfera, nell'acqua, nel suolo. E questa cosa è molto grave. Noi non abbiamo avuto né un euro da questi fondi, né le deroghe per le assunzioni. Usavo in occasione di una riunione a Palazzo Chigi, è come se si aumentassero i loculi al cimitero in funzione della risposta all'inquinamento ambientale. Non è quella la risposta adeguata. La risposta adeguata è la riduzione delle emissioni, o meglio ancora, l'eliminazione delle emissioni dove fosse necessario e quindi la vera prevenzione primaria. Non medicalizzare il territorio facendo test a tutti quanti di difficile interpretazione e elaborazione. Questo è quello che si è verificato con queste assegnazioni di risorse alla terra dei fuochi e a Taranto, non è una cosa che io considero positiva.